già normalmente non siamo due adoni certo sotto forma di caricatura non saremo due modelli ma abbiamo il nostro fascino va ricercato con molta attenzione ma lo abbiamo ragazzi se all'inizio così tanto non mi diverto quindi abbiate pazienza passiamo alle cose serie abbiamo visto che avete gradito molto il fatto di come ottenere la iso di windows 11 come bypassare la iso ma soprattutto avete gradito il fatto di poterla testare tramite macchina virtuale con hyper v e grazie a win to go poterla utilizzare su hard disk esterno i tutorial che vi andrò a fare ragazzi io ce l'ho qua sull'hard disk che mi sono creato come vi ho fatto vedere appunto nel video nei video precedenti e i tutorial li farò utilizzando appunto il win to go che ho creato sull'hard disk tenetelo presente e non perdete i video tutorial precedenti ma è un ma importante una volta che avete il modo il sistema per testare appunto windows 11 bisogna dire che sono state aggiunte a delle opzioni dei vantaggi a windows 11 diciamo dei plus chiamiamoli e effettivamente sono molto molto interessanti qualcuno li ha presentati devo dire facendo una sorta di putpurri molto velocemente uno dietro l'altro si capisce non si capisce poi non tutti sono in grado di capire da quelle poche frasi che vengono dette come effettivamente devono essere utilizzati queste migliorie ma soprattutto ragazzi non si capisce del perché conviene utilizzarle quindi che cosa ho fatto vi sono andato a creare una serie di mini tutorial li faremo qui nel corso del del mese appunto una serie di veloci mini tutorial che non solo vi spiegano un po meglio come funzionano queste migliorie questi vantaggi ma andiamo a capire perché c'è il perché c'è il vantaggio in modo che voi intanto vi impradichite e quando uscirà la versione definitiva di windows 11 sicuramente saprete come utilizzarle al meglio ragazzi fidatevi cosa ci andiamo a vedere questa volta allora questa volta ci andiamo a vedere la dettatura vocale automatizzata che era un'opzione già presente in windows 10 assolutamente ma qui è stata migliorata devo dire ragazzi come qualità di riconoscimento vocale ma soprattutto è stata aggiunta una chicca che adesso ci andiamo a vedere allora passiamo su la lo schermo di win to go la prima cosa che dovete fare ragazzi mi raccomando è andare qua verso il basso guardate vi faccio un leggero ingrandimento lo vedete qua in basso sul simbolo dell'altoparlante praticamente ok andando sul simbolo dell'altoparlante dovete andare a cliccare con il tasto destro andare su apri impostazioni appunto impostazioni audio una volta che si aprirà appunto la finestra dovete andare a cliccare come vedete qua su audio cliccate su audio vi apparirà la finestra non dovete fare altro che fare uno scroll completo verso il basso ed andare qui dove c'è scritto altre impostazioni audio cliccando qua sopra si aprirà la solita finestra che presumo già conosciate perché vi ho fatto fare questo passaggio perché è fondamentale che il microfono sia configurato nel nella giusta condizione quindi verificate che qui passate su registrazione lo vedete ragazzi io lo faccio ve lo ingrandisco qua su registrazione dove è scritto registrazione ci cliccate e andate a cliccare sul vostro microfono che lo vedrete perché ci sarà il simbolo dell'attivo sarà quello predefinito ci cliccate sopra lo selezionate e vi spostate qua in basso ve lo faccio vedere su proprietà cliccando su proprietà si aprirà la schermata di configurazione del microfono quello che è importante che controlliate ragazzi è questo dovete andare su ascolto fare in modo che non sia selezionata la virgola su ascolta il dispositivo quindi non ci sia il flag su ascolta il dispositivo se no al microfono vi funziona come altoparlante quindi questo non deve avere il flag e poi importantissimo invece qua su livelli guardate vi faccio uno zoom fate in modo che i livelli che vedete siano come i miei cioè oscillino tra l'ottanta e il novanta come livello microfono e ci sia una amplificazione microfono che vada tra il 10 e il 20 questo ragazzi è molto molto importante perché a secondo logicamente della qualità del microfono considerate che io adesso andrò a utilizzare il microfono del portatile non andrò a utilizzare il microfono che sto utilizzando in questo momento per registrare quindi c'è anche una certa distanza quindi tenete conto anche di questo ma a secondo di come risponderà il vostro microfono voi fate in modo di verificare questi livelli perché se qualcosa non funziona come si deve sicuramente il problema è perché questa finestra non è stata configurata a dovere ok questa è la premessa che era importante andiamo voi logicamente qua dovrete fare ok io in questo caso farò annulla e farò annulla andiamo anche a chiudere la finestra questa del sistema audio che cosa dobbiamo andare a fare allora in questo a questo punto ci servirà uno strumento quindi un software per poter andare a scrivere normalmente tutti utilizzano il documento di testo sapete quello classico col tasto destro nuovo documento di testo ma molti si scordano che abbiamo a disposizione gratuitamente word pad cosa dobbiamo fare basta andare qui sull'icona di ricerca spostarci sul campo di ricerca e scrivere semplicemente word come vedete in automatico vi verrà consigliato word pad e noi belli belli ce lo andiamo ad aprire una volta che abbiamo aperto word pad per prima cosa in modo che vedrete bene ci andiamo a mettere una risoluzione di carattere di 36 così viene bello grosso e lo vedete bene a questo punto voi qua già lo vedete ma io clicco fuori voi vi troverete così senza nulla ok a questo punto noi dobbiamo semplicemente andare a cliccare a pigiare il tasto windows comunque lo scrivo il tasto windows più h come vedete si è andato ad aprire la dettatura vocale lui vi avviserà che se non è aperto un documento sul quale scrivere la dettatura vocale logicamente non si attiverà ok ecco perché abbiamo precedentemente aperto word pad ci siete allora a questo punto io che cosa devo fare semplicemente devo andare a cliccare il microfono e andare a parlare guardate cosa succede ragazzi mi giro leggermente verso il microfono considerate la distanza anche assicuratevi prima mi raccomando di aver messo il cursore sul documento altrimenti la dettatura vocale vi segnalerà che non ha capito dove deve andare a scrivere quindi voi fate un click sul documento una volta fatto questo potete tranquillamente accendere far partire la dettatura vocale guardate stiamo facendo una prova di dettatura vocale e vado ad interrompere ragazzi vi faccio vi faccio presente che ci saranno buoni buoni oltre 30 centimetri tra me normalmente uno con un portatile ce l'ha sotto ce l'ha vicino sta al microfono io non solo sto leggermente in diagonale quindi immaginate la qualità di acquisizione della dettatura vocale perché il microfono del portatile che ho non è che sia niente di trascendentale ok tenetelo presente non ha sbagliato nulla e fino a qui già questo miglioramento varrebbe la pena di prenderla in considerazione se noi andiamo a controllare a guardare quale impostazioni vedete su impostazioni notate che c'è ci sono due possibilità che possiamo abilitare sia il launcher digitazione vocale sia soprattutto la punteggiatura automatica cosa vuol dire se io vado ad abilitare il launcher digitazione automatica ok guardate io lo abilito ok e esco fuori levo le opzioni levo automaticamente anche il il softerino della dettatura vocale so che devo riattivarlo con windows h ok ricordatevelo io mi posiziono semplicemente vado a fare clic dentro un documento ecco qua lo vedete qua in basso guardate ragazzi ecco qua che automaticamente windows con il lancer automatico mi fa partire la dettatura vocale e già è una grossa comodità ma riprendiamo rifacciamo apparire il nostro automatico chiudiamo se no questo automaticamente capisce e abilitiamo anche la punteggiatura automatica che è la cosa veramente più importante guardate l'abilito ritorno qua mi sposto di sotto in modo che non abbiamo non ci andiamo a confondere e faccio partire il microfono per la dettatura vocale vogliamo fare un'altra prova di dettatura vocale sembra che il sistema funzioni ed effettivamente in automatico viene inserita la punteggiatura devo dirvi qualcosa cioè ragazzi mi avete fatto caso guardate vi faccio lo scroll vogliamo fare un'altra prova di dettatura vocale punto intro cario sembra che il sistema funzioni ed effettivamente in automatico viene inserita la punteggiatura ragazzi ho fatto una prova su un documento intero leggendo e mi sono risparmiato non avete idea quanto tempo nel dover digitare ma volete mettere la comodità vi faccio notare un'altra cosa velocissima e poi chiudiamo guardate se andate qua in basso vedete qua dove vicino al microfono c'è un punto interrogativo dentro un tondino lo vedete ok se aspetta facciamolo riapparire che l'ho fatto sparire chiudiamo qua se andate a cliccare qua sopra automaticamente adesso mi ci mette un pochettino perché sta lavorando su win2go quindi ho la doppia linea internet impegnata ma vi si aprirà la finestra che riguarda appunto la guida della digital della della dettatura vocale se fate uno scroll verso il basso vedrete che a un certo punto ci saranno tutte le parole le frasi che vanno pronunciate per agire manualmente e dare un comando tipo punto virgola l'asterisco barra spaziatrice impratichitevi leggetevi questa guida andate a capire quali sono i programmi scusate i programmi le parole che devono essere pronunciate perché passiamo un'altra volta di qua non avete idea che comodità ragazzi guardate provatela testatela adesso avete capito il senso e il vantaggio quindi di poterla utilizzare in un certo modo fidatevi provatela ragazzi tanto lo sapete poi interrogo uno per uno io scrivo domando se non lo sapete io non rimando io boccio eh cattivo il tutorial finisce finisce qui era mini e ci vediamo al prossimo buona serata e un abbraccio a tutti ragazzi buona serata e un abbraccio a tutti ragazzi